un caro saluto amici amiche di tv 6 bentornati all'appuntamento col meteo insiste un ciclone all'interno del mediterraneo alimentato da aria fredda proveniente da est dai valcani che è la stessa che ha portato un sensibile calo termico da nord a sud la scorsa settimana questa massa d'aria fredda è al momento bloccata pertanto ci aspettiamo ancora fenomeni nelle prossime ore soprattutto sul versante adriatico per quanto riguarda dunque questo giovedì una giornata complessivamente incerta inaffidabile possibile solo una pausa dalle precipitazioni al mattino dopodiché tra pomeriggia sera potrebbero tornare acquazzoni e temporali su gran parte della regione soprattutto sui settori costieri e anche il primo entroterra qualche temporale comunque anche in appennino il clima si mantiene fresco ovunque con temperature che affaticano andranno oltre i 22 23 gradi in gran fresco di notte anche sotto 15 gradi nelle zone interne con questo concluso ci rivediamo nel prossimo aggiornamento sempre qui su tv 6 grazie a tutti grazie a tutti